ciao a tutti cari amici del canale ben ritrovati per questa nuova puntata su dr loomis channel un video unboxing dedicato a alcuni prodotti che mi sono arrivati grazie alla cg entertainment che mi ha inviato questo pacchettino con all'interno tre novità uscite in commercio negli ultimi giorni lo faremo tra pochissimo da un'altra angolazione intanto tiro fuori tre prodotti vi avviso subito che sono tre prodotti nel formato dvd non sono stati distribuiti nel formato blu ray 1080p sono due pellicole abbastanza recenti più un documentario che adesso spacchetteremo insieme appunto da un'altra angolazione bene allora iniziamo subito dal primo titolo ovvero november i cinque giorni dopo il bataclan e già dal sottotitolo capiamo di cosa andiamo a parlare quindi stiamo parlando di una delle più grandi tragedie contemporanee capitate a parigi infatti il film è ambientato nel gennaio del 2015 quando abde hamid abaud riesce a sfuggire un'operazione di polizia internazionale ad atene dove è presente fred commissario della direzione antiterrorismo francese dieci mesi dopo gli attentati del 13 novembre 2015 colpiscono parigi uccidendo 130 persone per cinque interminabili giorni l'antiterrorismo guida le indagini per la cattura dei terroristi in fuga tra parigi bruxelles e il marocco tra intercettazioni e testimonianze arrivando fino al raid a saint denis del 18 novembre pellicola che è stata candidata a ben sette premi caesar non so sinceramente quanti ne abbia vinti il tema è molto molto interessante a me piacciono comunque queste queste pellicole basate su fatti realmente accaduti fatti di cronaca quindi regista cedric gimenez pellicola girata nel 2022 costina e questo invece è il retro un film carico di tensione di umanità capace di adrenalina e commozione preciso e nitido dice coming soon punto it in questo caso abbiamo la traccia originale quella italiana in dolby digital 5.1 e 2.0 purtroppo non abbiamo contenuti speciali di rilievo abbiamo soltanto il trailer del film e qui infatti ero già certo perché si sentiva il rumore il disco si era staccato dallo slot qui abbiamo un'immagine del film sulla sinistra abbiamo i 12 capitoli ecco qua e quindi questo è il primo titolo passiamo al secondo questo è un film drammatico girato nel 2021 questa è una produzione belga il patto del silenzio un film di laura wandel di cosa parla il film vi leggo brevemente la storia nora sta per andare alla scuola elementare quando deve affrontare le molestie di suo fratello maggiore abel divisa tra suo padre che la spinge a reagire il suo bisogno di adattarsi e suo fratello che le chiede di rimanere in silenzio nora si ritrova coinvolta in un terribile conflitto di lealtà un'esperienza immersiva dal punto di vista di una bambina nel mondo della scuola quindi un tema abbastanza delicato esattamente come era quello precedente però qui quando si parla di bullismo è sempre un tema molto particolare molto delicato questa è la costina non so perché ma questa edizione della wanted rimane sempre attaccato il cielo fanno poi bisogna sempre toglierlo con con le unghie successo anche con il documentale su david lynch allora giriamo un po un tuffo nell'universo della scuola di una maestria impressionante una gemma teneramente spietata abbiamo l'audio con la doppia traccia quella originale quella italiana formato video 1.85 durata davvero molto contenuta dura 69 minuti quindi al limite del mediometraggio non dovremo avere contenuti speciali all'interno e l'interno è così disco serigrafia nera poi passiamo all'ultimo titolo questo invece è un documentario eccolo qua tokyo ga una versione restaurata in 2k del documentario diretto nel 1985 da win wenders che è dedicato al regista yasujiro ozu regista e sceneggiatore giapponese esponente del cinema realista morto negli anni 60 andiamo a spacchettarlo ecco qua quindi questa è una pellicola un documentario realizzato nella primavera del 1983 durante una pausa delle riprese del film paris texas è montato nell 85 documentario che alterna interviste ai collaboratori del regista ozu con riprese sulla vita frenetica della tokyo contemporanea documentario che è stato presentato al festival dei cannes nel 1985 nella sezione un certain regard la cosa più simile al paradiso che abbia mai incontrato è il cinema di ozu dice il regista edizione con traccia originale e sottotitoli in italiano formato video 1.33 apriamo ecco qua questa è l'immagine interna ricordo che questi titoli sono usciti unicamente in formato dvd quindi non c'è la controparte blu ray bene quindi questo era il video unboxing dedicato a queste tre pellicole queste tre edizioni nel formato dvd uscite in commercio negli ultimi giorni grazie alla cg entertainment vi ricordo che i prodotti sono disponibili quindi potete collegarvi sul loro sito io vi lascio anche il link nella descrizione di questo video grazie ancora e alla prossima iscriviti al canale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti